buongiorno buongiorno pietro greco e benvenuti all'intervista grandi temi della scienza in 30 minuti su il bo live questa volta il grande tema della scienza è la fissione nucleare è stata scoperta se così possiamo dire comunque realizzata anche nel 1938 perché era già stata realizzata prima ma fu capita nel 1938 alla fine dell'anno in realtà non fu tanto capita subito all'inizio da chi l'aveva fatta ma ma di questo parliamo con giulio peruzzi che insegna storia della scienza all'università di padova e che è un volto ormai noto per gli ascoltatori di il bo live e allora partirei proprio da una lettera da una lettera che un chimico otto anni scrive ad una chimica di origine austriaca elise maitner che intanto è dovuta scappare da qualche mese in svezia perché ebrea e quindi c'era il rischio che la arrestassero e le scrive una lettera il 19 dicembre del 1938 nella quale dice qui sul laboratorio è successo qualcosa di strano perché gli isotopi del radio poi giulio peruzzi spiega perché parla di isotopi del radio si comportano come bario e questo è una cosa che per noi diciamo non è comprensibile spiegaci tu che cosa è successo ma loro quello che avevano bombardato era uranio perché parlano di radio e perché parlano di bario giulio peruzzi grazie e buonasera le ascoltatrici e ascoltatori della radio e non radio anzi video radio e tutto ormai siamo cross mediatici cross mediatici sì sì la storia che appunto a cui accennava è molto interessante e lise maitner è stata collaboratrice ma forse qualcosa di più con otto an a berlino per molto tempo poi appunto è stata estromessa dalla sua attività e poi costretta a fuggire in svezia di fuggiarsi perché ebrea però sicuramente lei anna avevano avuto un buonissima collaborazione avevano cominciato a lavorare sulle cose di cui parlavamo la volta scorsa cioè molti gruppi di ricerca in europa cominciano a bombardare con neutroni e atomi radioattivi vedendo se quello che appunto già nel 33 34 era apparso chiaro alla coppia giulio curi era possibile indurre radioattività artificiale giulio curi l'avevamo già detto l'avevano fatto le particelle alfa quando si vede che c'è questa particolare efficacia dei neutroni rallentati nel creare nuovi elementi radioattivi molti laboratori cominciano a parlare su questo e appunto ann e strassmann che erano rimasti a berlino provano a bombardare dell'uranio ora uranio così come appunto sa bene pietro greco che di formazione chimico l'uranio che loro avevano non era solo un isotopo vuol dire che vuol dire isotopo vuol dire che appunto gli elementi chimici e vengono ordinati nella tavola periodica secondo il numero atomico il numero atomico è la carica positiva che sta nel nucleo e che è data dai protoni dopodiché però i protoni possono e anzi fanno spesso si accoppiano con neutroni in un numero variabile gli isotopi vengono definiti dal numero di neutroni che stanno nel quindi l'uranio può essere 238 può essere 239 può essere 235 e il 38 238 39 35 è la massa e la massa è data proprio dalla somma dei protoni e dei neutroni quindi l'uranio ha un elemento 92 come numero atomico ma poi ha isotopi di varie masi e casomai poi su questo torniamo ora quello che era particolarmente singolare e che appunto non permette a otto anni di capire che cosa è successo è che appunto il bario ha numero atomico 56 va bene e un peso atomico appunto sempre media dei vari isotopi che ci sono intorno ai 135 136 per cui non capivano perché fino a quel momento i bombardamenti fatti con le alfa o con i neutroni avevano portato eventualmente a un se ne era parlato l'altra volta a un passaggio da un elemento chimico a due elementi chimici più avanti due elementi chimici più indietro cioè nel senso che c'era il numero atomico passava con due cariche in più due cariche in meno più una più meno una. Ecco perché Anna parla di radio perché si aspettava il radio è un numero atomico numero atomico subito successivo e quindi e invece quello che loro trovano è che è stato che il bario è praticamente la metà diciamo proprio la metà siamo lì e quindi un passaggio di trasmutazione proprio di elemento nella tavola periodica particolarmente radicale e devo dire che su questo c'è delle belle testimonianze se ne leggono varie fatte da Otto Frisch perché appunto Lise Meitner in Svezia lavora insieme al nipote Otto Frisch che era un allievo di Bohr. Diciamo anche il contesto Otto Frisch si era regato in Svezia per celebrare il Natale si 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 erano incontrati per caso con la zia con la zia perché era lì e appunto e anzi devo dire che Lise Meitner è in Svezia grazie alla mediazione di Bohr che gli trova un posto dove sia sufficientemente sicura non troppo lontana però da centri diceva e come vedremo Bohr è un altro dei protagonisti di questa storia insieme a Wheeler insieme ad altri però non ci aveva pensato all'idea che viene suggerita benissimo ora lo dico con in maniera un po' grossolana ma dal modello che lui aveva costruito in quegli anni di nucleo atomico il nucleo atomico era una scoperta relativamente recente diciamo nell'11 Rutherford scopre il nucleo atomico ma di che cosa è fatto il nucleo atomico eccetera sono i primi anni 30 che cominciano a delineare il quadro che porta al nucleo atomico di oggi di cui parlavo prima protoni e neutroni prima era una cosa abbastanza confusa quindi la scoperta del neutrone è del 32 nel 33 34 ci sono i primi modelli neutrone protone ed elettrone e poi finalmente si arriva a un modello quindi diciamo erano pochi anni e pochi anni che si trattava la meccanica del nucleo con la nuovissima meccanica ondistica e Bohr fa un modello che un modello a goccia detto appunto in maniera rosa è un modello in cui c'è una gocciolina d'acqua che bombardata con particelle che si aggiungono a quelle presenti entra in fibrillazione diciamo comincia a oscillare ci sono alcune di queste oscillazioni che sono relativamente stabili per cui quello che può cambiare la massa oppure c'è un decadimento beta se volete poi dico due parole insomma esce un elettrone c'è qualcosa la cambia la carica si passa però in alcuni casi le oscillazioni di questa gocciolina portano di fatto a dividerla in due e quello che appunto l'isemite capisce e spiega a otto anni ma anche a Bohr che quando Frisch gli dice guarda abbiamo questa interpretazione non ci avevo pensato cioè si è spezzato in due vuol dire che ci sono configurazioni in cui la stabilità porta a dividere l'atomo originario uranio in bario e qualcos'altro Krypton poi c'è tutta una catena di possibilità e non solo ma i due figli del nucleo originario hanno una massa complessiva un po' più piccola di quella del nucleo padre va bene originario del nucleo uranio e quindi se c'è una perdita di massa beh l'attività ristretta di Einstein ci dice che l'energia va che la massa va in energia è uguale a mc quadro quindi anche una piccola frazione di massa moltipliata per una costante come la velocità della luce al quadrato da enormi quantità di energia e quindi si capisce che utilizzare la fissione per produrre energia è una grande prospettiva. Possiamo riassumere in questi termini mi dica se sbaglio diciamo l'isemite nero e otto anni prima che partisse da Berlino l'isemite nero insieme a otto anni ma forse più l'isemite avevano progettato di nuovo questo esperimento di fissione che poi si era di fissione di bombardamento con neutroni lenti del nucleo di uranio poi l'isemite nero deve scappare otto anni realizza ottiene dei risultati che gli sembrano incredibili ottiene il bario ovviamente si aspettava il radio e chiede a l'isemite nero ma che cosa che cosa ho trovato e l'isemite spiega a lui e anche a bor il teorico del modello a goccia del che cosa è successa è successa quella che chiamano la fissione del nucleo di uranio è questo che è successo è proprio così che sono andate le cose e devo dire l'isemite nero è una persona notevolmente accurata per cui quando otto frisch va dopo il natale all'inizio di gennaio torna a copenaghen e parla con bor dicendo guarda l'interpretazione dei dati di ann che ormai erano noti perché era una cosa abbastanza sorprendente che noi vorremmo dare è questa bor va negli stati uniti è pochi giorni prima che fa di fare un viaggio in stati uniti abbastanza importante siamo tra l'altro è l'inizio del 39 la prima la seconda guerra mondiale ci vorrà qualche mese 6 7 mesi dopo a settembre va bene però diciamo si capisce che c'è una situazione di grande tensione e pericolosità e in fondo su questo campo che ha grandi prospettive in ambito di applicazioni civili ma anche di applicazioni belli che ci stanno lavorando tutti compreso appunto otto anni e altri in germania quindi quando lui va negli stati uniti c'è tutto un incontro tra l'altro in stati uniti era da poco arrivato anche enrico fermi che lo accoglie sul porto c'è un rapporto tra c'è una discussione che non è mai stata riportata ufficialmente tra bor e fermi in cui lui dice scusa ma questa l'alise ha detto questo cioè perché fermi voleva già comunicare tutto adesso la comunità c'è aspettiamo esca l'articolo l'articolo in realtà esce tre mesi dopo cioè a marzo perché loro vogliono essere abbastanza convinti infatti rifanno gran parte degli esperimenti compresi quelli dei ragazzi via panisperna mal interpretati ma che in qualche modo potevano essere già i primi vagiti di questa idea della fissione dell'altra però fermi soprattutto si fa insomma diventa il pioniere il principale esponente di questo gruppo che comincia sia a sperimentare che a teorizzare e come aveva detto lei quando si rompe il nucleo di uranio non escono soltanto i pezzi di bario dell'altro elemento al complemento ma c'è una perdita di materia che si è trasformata in energia ma c'è anche una liberazione di neutroni e questa liberazione di neutroni comincia a essere insomma oggetto di attenzione di attenzione perché allora questo allora intanto è molto interessante che proprio nel 39 quando bor va negli stati uniti lavora e pubblica un articolo con john willer che era stata a copenhagen si ritrovano appunto negli stati uniti a princeton e tra l'altro john willer in quegli anni diventerà anche il professore di dick feyman con cui farà la tesi di dottorato e feyman farà tesi di dottorato con willer non viceversa anche se la differenza d'età è pochissima c'è due anni anche di genialità però bor e willer intanto si rendono conto che il risultato ottenuto da otto anni è legato a una particolare a un particolare isotopo dell'uranio naturale che è l'uranio 235 fanno un articolo bellissimo secondo me l'ultimo che viene pubblicato poi in questi temi perché poi arriva la guerra e si ritornerà su queste cose pubblicamente dopo il 45 quindi lì c'è questa cosa è scoperto questo sarà decisivo per la storia della storia della delle applicazioni militari e in quell'articolo per esempio fanno vedere che la produzione effettiva di più di un neutrone e quindi l'innesco di una catena di produzione di fissione almeno loro fanno un articolo teorico però insomma il lavoro è molto bello anche di meccanica statistica eccetera può essere innescata non dall'uranio 238 ma dall'uranio 235 quindi si capisce che si può innescare una reazione a catena in cui oltre all'energia c'è questa produzione a cascata di un numero maggiore di uno di neutroni che innesca tutta una serie di passaggi possiamo spiegarla così diciamo l'uranio 238 la goccia è abbastanza stabile quindi anche se gli spari il neutroni rimane abbastanza stabile invece quella di 235 no no si divide e fissiona tra l'altro fissione è un termine che viene introdotto proprio dalle da l'isemite otto frischi le ragioni per cui da dove mutano ci sono varie storie però insomma di fatto e sono loro che introducono il termine che infatti l'articolo pubblicato parla proprio di fissione e da quel momento c'è una bella frase che scrive indico fermi me la sono annotata e il 19 novembre del 45 cioè tre mesi dopo le esplosioni di roshima e nagasaki nella primavera del 39 quindi pochi mesi dopo che bor era stato lì c'era stato l'articolo di bor will eccetera divenne generalmente noto che un processo di fissione indotto dalla collisione di un neutrone con un atomo di uranio era capace di produrre a sua volta certamente più di un nuovo neutrone e forse addirittura due tre molti fisici in quel momento si resero conto che una reazione a catena basata sulla fissione di uranio era una possibilità che militava ulteriori ricerche questa possibilità era considerata con speranza e nello stesso tempo con grande preoccupazione perché tutti sapevano agli inizi del 39 ma siamo ormai alla prima dell'imminenza di una guerra mondiale c'era un fondato timore che la tremenda potenzialità militare latente nei recenti sviluppi scientifici potesse essere realizzata dai nazisti per primi e quindi in quel periodo fotografa bene la situazione tutti hanno capito che questo c'è che è una possibilità reale e dico questo ma penso che anticipando parte della prossima domanda è che fermi immediatamente sono due gruppi che in realtà lavoravano alla columbia university perché quando lui scappa dall'europa prima passa un po di tempo alla columbia poi dal 42 va a chicago come avevamo già detto e fermi già immagina come potrebbe essere una pila atomica cioè una realizzazione di una reazione a catena controllata per produrre energia quelli che sono i reattori nucleari riassumiamo allora intanto c'è il reattore che come dire un'applicazione controllata diciamo della produzione di energia dall'altro c'è quella militare che è una produzione incontrollata insomma controllata per essere incontrollata e con un gioco di parole il problema è sostanzialmente questo se ben capisco a un certo punto tu hai la fissione la fissione libera a neutroni più di quanto siano necessarie per attivarla quindi può innescare una reazione nucleare a catena ma ogni fissione libera energia quindi una reazione nucleare a catena può sviluppare una quantità inusitata enorme di enorme di energia e quindi questa può essere applicata per la bomba più potente che sia mai stata immaginata ottenuta dai chimici qui siamo tra chimica e fisica qui siamo di fronte ad una liberazione di energia di alcuni gradi ordini di grandezza superiore sì e questo è appunto questo niente devo dire che ancora allora la situazione statunitense per ora è abbastanza neutrale rispetto alle vicende europee gli europei grandi scienziati grandi intellettuali stanno già migrando a frotte come avevamo sottolineato anche l'altra volta e questo è un periodo molto complicato veramente per l'europa e però di fronte a queste evenienza appunto fermi zillard prendono iniziativa per segnalare al governo in particolare al presidente stati uniti di allora era roosevelt che c'è una diciamo ragionevole preoccupazione che se non si sviluppa la svelta queste ricerche possano arrivare prima i nazisti però diciamo fino al 41 se vogliamo mettere una data io metterei pelarbur va bene che siamo alla fine del 41 e quindi i finanziamenti sono relativi e il lavoro di ricerca viene svolto alla columbia dal gruppo di zillard a quello di fermi essenzialmente per la produzione di una pilatonica quindi di un effettivamente riescono a raggiungere roosevelt i fisici ma attraverso l'unica persona che ha contatto con roosevelt che è albert einstein il quale il 2 agosto del 39 scrive una famosa lettera sul suggerimento di zillard willer e teller si si a trovarlo però insomma il governo americano è lento quindi attente per attivarsi nel senso che nel mezzo vengono fatte delle cose intanto la lettera è dell'agosto ma arriva roosevelt nelle mani roosevelt solo nell'ottobre del 39 e roosevelt allora intanto costituisce un comitato dell'uranio che poi farà parte del centro ricerca su queste cose per la difesa del paese però diciamo finanziamenti grandi non ce ne sono e quindi tutto procede come procede la scienza normale cioè quindi la pila di fermi se avesse continuato a seguire i normali canali di finanziamento pubblico nel nostro paese ci avrebbe messo 50 anni ma diciamo e negli stati uniti forse in tre o quattro anni probabilmente sarebbero arrivati a ragionevoli ma tutto poi si accelera dalla fine del 41 che la pila deve dimostrare che la teoria corretta intanto la pila dimostra che la teoria corretta ma c'è di più perché in quel periodo appunto l'uranio 235 si è capito che è importante va fatta come si dice una selezione isotopica dall'uranio in natura che è in massima parte 238 prendere quella piccola frazione 235 però nello stesso tempo si è scoperto altri transuranici tra cui in particolare il nettunio e il plutonio proprio nel 1940 e fermi ne parla con varie persone tra cui segrea altro collega ragazzo di via palisperna che è emigrato negli stati uniti e capisce che se io avessi la possibilità di utilizzare un reattore con uranio 238 c'è una catena di reazioni che sono che sono legate a emissioni radiattive di elettroni neutroni che vengono assorbiti e elettroni che vengono emessi che porta dall'uranio 238 al plutonio che è l'altro elemento chiave per poter eventualmente sviluppare applicazioni veri perché anche il plutonio si rompe perché anche il plutonio ha questa caratteristica di essere in una particolare configurazione instabile e quindi un buon candidato per le armi nucleari solo che il plutonio a differenza dell'uranio anche chimicamente è un veleno diciamo è molto pericoloso da gestire da manovrare sì sì di questo se ne accorgeranno un parte anche allo salamo ci rimette le pietre bene allora quindi nel 1942 a Chicago Enrico Fermi dimostra che la reazione nucleare a catena avviene il 2 dicembre del 42 questa data che segna l'inizio dell'era atomica perché appunto qui comincia lo sfruttamento di energia nucleare in questo caso qui appunto è l'energia nucleare non è di per sé il demonio va bene è giusto che nel nella popolazione ma anche nella comunità scientifica rimanga come una vergogna l'applicazione alle armi però diciamo dal punto di vista della svolta dell'utilizzazione di questa energia in modo sensato no è una grande svolta e appunto c'è questo gruppo di collaboratori enormi che Fermi ha fatto tutta una sua serie di sviluppi tecnologici anche abbastanza raffinati e appunto l'inizio questa prima reattore nucleare funziona a una potenza ridicola cioè mezzo watt cioè neppure una lampadina e l'efficienza del sistema allora no non è non era diciamo però lo tengono basso proprio perché vogliono essere sicuri che non gli esploda in mano cioè peraltro pericolo che correrà invece in Germania e sempre sì e appunto c'è questa grande successo che avvia di fatto quello pelar bull c'è stato l'anno prima e quindi si avvia a tutti gli effetti quello che è il progetto maraton che è il nome sotto cui va appunto il ancora una cosa fermi con la pila atomica dimostra di essere un grandissimo fisico sperimentale oltre che un grandissimo fisico fisico teorico questo appunto lo sottolineavamo anche l'altra volta che enrico fermi è quello che ancora ancora forse nella sua generazione ci potevano essere persone come lui non tutti è perché per esempio rasetti è un grandissimo sperimentale ma forse dal punto di vista teorico i suoi contributi sono meno significativi mentre fermi è uno che riesce ad essere veramente di altissimo livello in entrambi i settori sia quello dello sviluppo teorico che quello dello sviluppo sperimentale al progetto manattan partecipa anche un grandissimo fisico che viene da padova bruno rossi che ormai a padova non c'era più anche lui e poi non ci tornerà più e appunto degli italiani quelli più noti appunto sono fermi segre e rossi però c'è un sacco di persone che vengono dall'europa di vari posti c'è bete che viene dalla germania felix bloc viene dalla svizzera appunto otto frisch viene dall'austria c'è telephone o iman e zilard e ulam che sono tutti loro i primi tre sono ungheresi ulam e polacco insomma c'è una tutta europa joseph rotblat anche lui anche lui polacco insomma l'unico americano di grandissimo no non l'unico quello di grandissimo rilievo era openheimer che dirige la parte scientifica del progetto e poi sicuramente compton lawrence che contribuiscono agli sviluppi e appunto i problemi che vengono affrontati intanto il progetto marathon ha tre siti in realtà uno è oak ridge che si occupa essenzialmente a produzione uranio 235 l'altro è anford dove vengono costruiti la cennavo la volta scorsa ma in tempi brevissimi reattori nucleari per il plutonio e poi c'è il famoso laboratorio di los alamos che poi in realtà è il posto dove si sviluppa la parte teorica e si cerca di verificare se la teoria funziona e ci sono dei problemi in quel contesto che vengono affrontati che naturalmente lì sono tutti mirati alla costruzione il prima possibile delle bombe ma che poi avranno interesse in un sacco di applicazioni che vanno dalla sanità cioè in realtà poi la ricerca di base è bella perché in realtà poi sono altri che scelgono se applicarla nel bene nel male però cerca di base di per sé da grandi prospettive prosegue anche allo salamos ad ampio spettro ad ampio spettro ed era importante che fosse così per ottimizzare l'uso e per esempio appunto il problema ora senza entrare in troppi dettagli tecnici ma per la bomba all'uranio il problema di raggiungere la massa critica in cui poi avviene l'esplosione è relativamente classico cioè io prendo una massa di una certa valore e ci butto dentro con un detto normale un'altra massa in modo tale che quando le due si uniscono la bomba ha raggiunto la massa critica per esplodere per il plutonio è molto diverso perché il plutonio in una situazione di questo genere non funzionerebbe perché appunto e allora bisogna prendere uno strato se vogliamo di plutonio e farlo implodere per raggiungere la massa critica l'implosione deve essere però a simmetria sferica perfetta se c'è qualche asimmetria tra lì ci sono studi anche di fluidodinamica di cose che vengono fatti tra l'altro anche da Ulam che rendono questa cosa particolarmente raffinata e difficile infatti l'unico test che faranno il famoso trinity test che viene fatto nel 45 a luglio del 45 è sulla bomba plutonio fanno una specie di appunto piccola cosa per provare che effettivamente tutto funzioni dopodiché appunto quella all'uranio 235 c'era meno bisogno di sperimentarla era quasi diciamo quello nel 35 si era sicuri che la cosa funzionasse a parte che allo salamo si hanno avuto ad un certo punto il rischio di avere massa critica in uno dei depositi che disperdisse tutto per fortuna non hanno verificato anche quello e poi come è andata si sa diciamo il 6 e il 9 agosto queste le bombe sono state sganciate su hiroshima quella appunto all'uranio little boy perché poi ci sono queste nomenclature e su nagasaki appunto il 9 agosto fat man che era invece quella a plutonio e devo dire appunto che a parte alcuni come avevo già detto l'altra volta le situazioni in cui questi operano sono un po particolari e quindi è difficile dare dei giudizi morali tranchant col senno di poi però sicuramente per molti di quelli che hanno lavorato a questo progetto il trinity test è stato una grande liberazione nel senso erano entusiasti abbiamo fatto un buon lavoro però quasi subito e poi specialmente dopo che trinity test è di luglio neppure un mese dopo vengono sganciate le bombe su hiroshima e nagasaki tutti riflettono su che cosa significa fare ricerca di base e poi vederla applicata ad armi e alla distruzione di città insomma quindi all'omicidio di molti di quelli che hanno partecipato e che condivano a partecipare al progetto malata hanno detto a un movimento di essenziali che cerca di ricacciare nella bottiglia lo spirito militare che ne uscita sì devo dire che appunto questa cosa qua che un pochino vede sempre c'è l'animella è sempre zillard poi einstein eccetera che sono gli animatori erano già stati in qualche maniera animatori di tentativi di far recedere le autorità militari e politiche dalla sganciare le bombe su delle città per cui c'era stato appunto famoso rapporto frank compton devo dire aveva chiesto alla comunità scientifica che era stata coinvolta nel progetto se in realtà ritenessero o meno di dare un consiglio alla politica e militari che stavano giusto appunto in quei giorni decidendo se sganciarono le bombe e in realtà la comunità scientifica quasi tutta firma un appello perché non vengano fatte anzi da portofranca suggerisce di fare una dimostrazione però appunto poi in realtà come avevo già detto l'altra volta fermi un comitato scientifico che viene consultato fatto da fermi compton stesso lawrence e openheimer dice no è l'unica maniera però nel momento in cui appunto vengono gettate le bombe per dire open air dopo le bombe su hiroshima e nagasaki dice credo che nessuna volgarità nessuna battuta di spirito nessuna esagerazione possano estinguere il fatto che i fisici hanno conosciuto il peccato e questa è una conoscenza che non possono perdere e quindi c'è già in quel contesto lì l'idea che a questo punto però bisogna fare i conti con armi che non sono mai state a disposizione del genere umano e che possono distruggere la specie umana e quindi parte quello che diventerà poi col manifesto einstein russell il movimento del pack wash e una serie di altre iniziative che vengono fatte da tantissimi scienziati tra cui anche lise meitner che finita la guerra in realtà smette in parte di fare attività scientifica tra i suoi allievi c'è max delbruch per dire grandi e comincia invece a occuparsi del problema del ruolo della donna e della sua dignità nell'ambito ricerca nella società e di questioni civili se la vicenda di lise meitner su cui vorrei ritornare bizzarra perché lei ha rifiutato di partecipare al progetto manatta dove l'aveva invitata anche otto frisk però siccome uno dei pochi fisici che di cui si sa che si è occupata di quelle cose che fuori dagli stati uniti alcuni giornalisti sempre noi siamo la combiniamo grossa cominciano a interrogarla e a scrivere di lei come la madre ebrea della bomba dopo hiroshima e nagasaki che la fa anche un po indignere si ma la fa arrabbiare soprattutto insomma lei giustamente anche la vicenda del premio nobel assegnato nel 45 per il 1944 che viene dato soltanto a otto anni e non anche a lei come mai successe questa cosa è uno degli esempi in cui le donne sono state come dire emarginate ingiustamente e non gli viene assegnato un premio che invece avrebbero meritato ampiamente sicuramente io voglio dire che su questa cosa del premio nobel poi bisogna vedere appunto se ci sono state inimicizie all'interno del comitato dei premi nobel del fisico svedese o di queste cose di probabilità eccetera sta di fatto che mentre ora obiettivamente il premio nobel ha maturato anche una sensibilità rispetto a questi problemi all'epoca devo dire che le sensibilità non c'è insomma se si pensa che lise maitren ha collaborato con otto anni ma negli scantinati dell'istituto di berlino perché le donne non avevano accesso ai laboratori perché si capisce che diciamo il clima il contesto era un po diverso e quindi c'è questo fatto che la fisica la scienza non era considerata un'attività da donne le donne non potevano meritare questo però possiamo riconoscerlo adesso diciamo lise maitren ha avuto un ruolo determinante in tutta la scoperta della fissione nella parte di ricerca fondamentale ha avuto un ruolo determinante e va anche detto che la scoperta di questi tipi di processi e la loro spiegazione teorica è sicuramente ancora oggi un aiuto possiamo dire ancora qualche parola spedere qualche parola a favore di otto anni il quale non pare che non abbia voluto partecipare a un analogo progetto di costruzione della bomba nucleare in germania lui era un antinazista sì devo dire che aveva c'è allora anche lì la posizione è molto complicata sempre però sicuramente c'erano persone che sono rimasti in germania a parte perché non erano ebrei non avevano particolari però hanno fatto una sorta di resistenza passiva e convinti comunque di es che la nazione tedesca avesse bisogno di loro insomma quindi erano dei nazionalisti ma non erano nazisti e otto anni è sicuramente uno di questi come lo è in parte anche plan che io sono blanca lo era ma uno che fu che lo ero altrettanto io penso ma se mi chiedo cosa ne pensa lei era certamente verner heisenberg che fu chiamato a guidare come un po fermi anzi più di fermi nel progetto ma tra fermi e oppenheimer fu chiamato a dirigere il progetto nucleare tedesco insomma il progetto nucleare tedesco non va in porto e qualcuno sospetta che tutto sommato heisenberg non abbia fatto tutto quello che poteva avrebbe potuto fare avrebbe potuto fare diciamo anche sono convinto che appunto anche heisenberg non è un nazista ma è un nazionalista c'è uno che che crede nel suo paese che 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 ritiene importante lavorare io penso che al di là ecco che loro possono avere avuto forse una un ruolo lui han altri nel nel non comunicare a sufficienza quelle che erano le informazioni però devo dire che la germania di quell'epoca non avrebbe potuto investire 20 miliardi 30 miliardi di dollari equivalenti oggi 2 miliardi di dollari all'epoca 30 miliardi di dollari che gli stati uniti hanno investito è una situazione economicamente molto più arretrata quindi se ave pure aveva le teste e i cervelli per poter portare avanti il progetto non l'ha sostenuto forse non avrebbe potuto insomma perché dobbiamo dirlo la costruzione della bomba non fosse soltanto un grande progetto scientifico ma anche industriale perché furono coinvolte in maniera massiccia grandi industrie che solo gli stati uniti avevano in quel momento e appunto perché erano fuori dalle di fatto dalla zona di quella direttamente per cui certamente investirono poi anche in azioni belle però sicuramente avevano la possibilità di avere tutta una parte di apparato industriale completamente a disposizione e che finanziò ci sono grandi industrie appunto che lavorano a crigio e quindi sono effettivamente sono loro che poi supportarono questo sforzo da cui peraltro nasce lo dico così an passale l'idea che se io a disposizione un numero sufficiente di scienziati motivati e formati e ho sufficienti finanziamenti i tempi per raggiungere certi obiettivi di ricerca e comunque allargare molto la nostra conoscenza possono farsi molto brevi e in certi settori questa massa è importante nasce la big science quella che si dice bene l'ultima domanda era esattamente su questo tono perché proprio nei giorni delle settimane in cui succedeva insomma le bombe esplodevano prima il test poi esplodevano purtroppo a Hiroshima e Nagasaki ci fu appunto un il consigliere scientifico di usbeth van die warbush che redasse un manifesto che si chiama appunto insomma che era noto come manifesto di van die warbush nel quale delinea proprio questo e dice che lo sviluppo economico di un paese ha come motore primo la scienza la scienza di base che se gli Stati Uniti insomma vogliono diventare leader nel mondo anche da un punto di vista economico e tecnologico devono investire molto in ricerca di base perché le vicende degli ultimi anni hanno dimostrato che dalla ricerca di base alle applicazioni concrete il passo è molto breve sì e a parte che ringrazio pietro greco che ha tradotto il manifesto di bush e che che consiglio la lettura ma c'è di più appunto noi spesso quando parliamo gli stati uniti parliamo sempre di investimenti in ricerca fatte dall'industria non è vero cioè è ovvio che c'è una grande quota parte di investimenti da parte di privati ma ovviamente i privati hanno l'obiettivo di ritornare sui capitali investiti il prima possibile per cui se sono abbastanza lungimiranti possono investire all'ampio spettro hanno abbastanza possibilità e dire tanto anche se ne viene una sola di idee buone da applicare quello che ho investito lo riprendo c'è i grandi laboratori bell per esempio sono un esempio però bush dice chiaramente che la ricerca di base non può che essere finanziata dalla dalla diciamo dalla fiscalità generale e di fatto quello che succede tuttora negli stati uniti è che una parte di questi fondi vengono proprio dalla fiscalità generale non vengono solo dall'impresa privata o dalle perché appunto bisogna lasciare spazio alla scienza o alla ricerca orientata dalla curiosità bene questo questa vicenda ci ha insegnato esattamente questo poi la ricerca libera ricerca di base libera dettata dalla curiosità porta l'unica che porta dei risultati davvero nuovi di una delle novità straordinarie bene io ringrazio giulio per us e auguro buon anno buon 2019 ci ritroveremo nei primi giorni del 2019 ancora a parlare di storia della scienza della fisica in particolare e buon anno anche ai nostri ascoltatori ci ritroviamo qui il prossimo anno mi associo auguri grazie